Il progetto prevede la partecipazione gratuita a 5 ragazzi che rispondono ai requisiti del bando del Comune di Napoli per poter frequentare gratuitamente il corso di formazione per aspiranti avvocati. E chiaramente anche chi non riuscirà ad ottenere uno dei 5 posti tranquillamente avrà una spuntistica particolare proprio per fare in modo che la formazione sia anche per coloro che non hanno adeguate possibilità economiche ma che intendano intraprendere un percorso formativo che li renda competitivi successivamente sul mercato del lavoro. Un mercato del lavoro che non deve essere necessariamente fuori dalla nostra città ma anche nella nostra città dove ricordiamo ci sono le migliori eccellenze del campo giuridico. Diamo la possibilità a 5 aspiranti avvocati di poter frequentare un corso di formazione, di alta formazione a titolo totalmente gratuito. Il nostro intento è però, ho parlato di piccoli passi perché il nostro intento è quello di andare oltre, c'è di consentire la formazione anche ad altre figure professionali e infatti è già in cantiere una nuova iniziativa che vedrà partecipe estetiste e unicotecniche. E' stato presentato questa mattina il bando per la partecipazione gratuita di 5 allievi al corso di alta formazione per aspiranti e avvocati organizzato dall'Associazione di Studi Giuridici Militerni. Una iniziativa che darà l'opportunità a 5 giovani laureati di formarsi gratuitamente ed acquisire le competenze necessarie per sostenere l'esame per l'abilitazione forense tra un anno, a dicembre 2017. Il mondo degli avvocati è molto molto intasato, ci sono troppi, pare che siano addirittura più che in Francia, quelli in Campania e quindi abbiamo bisogno di creare delle vie d'accesso per chi da solo non ce la fa. E molto spesso queste persone sono quelle che non hanno un accesso per motivi economici e quello è il primo fattore discriminante. Sempre più si diffondono corsi privati molto molto cari e quindi avere invece una possibilità di accesso del genere è meritevole e ci fa piacere collaborare in questo senso. Non annunci ma cose anche piccole e significative. Quindi ragazzi andate sul sito del Comune di Napoli, scaricate il bando e se state affrontando un percorso di crescita giuridica perché avete sostenuto una laurea di tipo di diritto e quindi volete diventare degli avvocati, grazie ad una bellissima partnership e un'iniziativa promossa dalla Presidente della Commissione Welfare potete avere accesso alle opportunità formative della Scuola Militerni. Essere giovani vuol dire avere opportunità e questa è una piccola ma importante opportunità da cogliere al volo.